Abbiamo un primo periodo che va di qui fino al 2 di maggio, che è il momento nel quale avremo la certezza di poter programmare poi la data successiva, che noi già abbiamo una stima che è intorno al 20-25 di luglio. Il 2 di maggio è quindi la data in cui è prevista la consegna del nuovo ospedale di Pistoia. Da lì scatterà poi il piano di trasferimento dal vecchio al nuovo nosocomio. È quanto dichiarato dalla direzione dell'ASL3 nel corso di un nuovo sopralluogo al cantiere, al quale erano presenti, oltre ai vertici aziendali, anche i medici responsabili dell'area medica, chirurgica, emergenza-urgenza e materno-infantile dell'ospedale di Pistoia. Per far funzionare al meglio la macchina operativa del trasferimento, sono stati creati dei gruppi per un totale di oltre 200 operatori, che stanno pianificando tutte le fasi del trasferimento. Non è da escludere anche che per lo spostamento dal vecchio ospedale al nuovo, l'ASL3 possa chiedere al comune la chiusura della tangenziale. Nel momento clou del trasferimento dovremo appunto concordare col comune, ma pensiamo appunto a orari notturni, quantomeno serali, appunto delle vie di accesso, in modo da consentire l'arrivo qui nel nuovo ospedale in tempi più brevi possibili, per ovviamente limitare il fastidio nei confronti dei degenti. Quindi non è da escludere che possiamo chiedere anche per alcune ore l'uso esclusivo della tangenziale, però questo lo vedremo un pochino ancora più avanti, però forse nell'ipotesi c'è anche questo. Sicuramente dovremo innanzitutto, diciamo così, non appena possibile, pensiamo già dai primi di luglio, portare qui in ospedale le strutture di supporto, quindi la direzione anche di presidio, varie attività che intanto formano la base logistica del trasferimento. E poi man mano, diciamo così, da un livello di intensità dal più basso verso il più alto, può spostare tutte le varie attività fino al culmine, che è il momento critico, quello del trasferimento. L'ospedale di Pistoia avrà 400 posti letto, 12 sale operatorie, 5 sale travaglio, 20 posti osservazione breve e intensiva, 26 posti dialisi e 5 sale parto. In particolare nel sopralluogo è stata mostrata la nuova organizzazione del pronto soccorso, che si differenzia dal vecchio ospedale in una maggiore organizzazione dei pazienti, divisi in zone di accoglienza apposite a seconda della patologia presentata, nella continuazione col reparto di radiologia e nella presenza di un'attac dedicata.